carissimi sposi buongiorno un'altra perla del papa che troviamo in amoris letizia è al numero 31 il papa scrive è sano prestare attenzione alla realtà concreta perché le richieste e gli appelli dello spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia attraverso i quali la chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell'inesauribile mistero del matrimonio nella famiglia certo anche questa situazione concreta che stiamo vivendo è una realtà che dobbiamo leggere perché può nascondere una richiesta e un appello dello spirito santo proprio per capire e cogliere ancora di più l'inesauribile mistero del matrimonio nella famiglia in questo tempo particolare cosa mi chiede lo spirito santo cosa chiede a me come sposo lo spirito santo per capire ancora di più l'inesauribile mistero del sacramento del matrimonio saprò rispondere anch'io a questa domanda cosa lo spirito santo chiede a me come moglie e alla nostra famiglia proprio per cogliere e scoprire ancora di più l'inesauribile mistero del matrimonio nella famiglia saprò rispondo saprò risppedo